L'accordo con l'Albania favorirà una gestione dell'immigrazione nel rispetto della legge e non più essendo al seguito dei trafficanti, chi paga i trafficanti può entrare in Italia. No, chi rispetta la legge potrà entrare in Italia, gli altri invece dovranno ritornare da dove sono venuti. Sento, sulla richiesta del PD a Meloni viene di rispondere in aula. Su questo il governo darà le risposte che riterrà, la disponibilità del Presidente del Consiglio è stata ampia, non ha mai mancato alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, ci sarà sicuramente un contatto attraverso i Presidenti delle Camere con il governo e il Presidente del Consiglio per stabilire eventuali ulteriori spazi. Grazie.